Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi vediamo il mio personale modo per caricare il kayak sul tettuccio dell'auto. È molto semplice, è facile, non c'è bisogno di spaccarsi la schiena, quindi non c'è bisogno di una grande forza. Lo può fare chiunque, si può fare anche con i kayak più pesanti. Adesso prendo tutto all'occorrente e vi faccio vedere come si fa. Grazie a tutti. Per caricare il kayak uso l'asciugamano. Per non graffiarmi il tettuccio dell'auto, è un parabordo che ho trovato al mare, quindi tutto a costo zero. Per caricare è molto semplice, sollevo dalla prua e cammino fino a che non poggio la prua sul parabordo. Dopodiché vado a poppa e con le gambe lo sollevo e lo carico sull'auto. Il procedimento a posto lo faccio quando lo devo scaricare. Ecco fatto, molto semplice. Ciao. Alla prossima e buon mare a tutti.